Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code tra Firenze Scandicci e il Vivio per la variante di Valico. Sulla A11 per viabilità esterna che non riceve code tra Sesto Fiorentino e Firenze per Itola in direzione Firenze e in direzione Pisa rallentamenti tra Prato Ovest e Pistoia per un veicolo in avaria. Sulla Fibili per viabilità esterna che non riceve rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla A12 è chiuso fino al 27 ottobre per lavori lo svincolo di connessione della A11 provenendo da Lucca. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Prunita. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!